Silvio Berlusconi è morto. Il Cavaliere, che è stato quattro volte presidente del Consiglio, si è spento oggi a 86 anni. Si trovava ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo ha annunciato l'ANSA. Questa mattina, il fratello Paolo e i figli erano a corsi al suo capezzale, dove già si trovava la compagna Marta Fascina. Per Berlusconi era l'ennesimo ricovero in breve tempo, dopo quello durato 45 giorni tra aprile e maggio. In quell'occasione il primario Alberto Zangrillo, medico personale e amico di Berlusconi, aveva fatto sapere che il leader di Forza Italia soffrisse da tempo di leucemia mielomonocitica cronica. Berlusconi era stato precedentemente ricoverato qualche giorno nel gennaio del 2022 per dei controlli dopo aver contratto un'infezione alle vie urinarie. Nel 2020 era stato colpito dal Covid ed era rimasto anche in quell'occasione ricoverato per diversi giorni. Classe 1936, Berlusconi era però guarito. Nei primi giorni di ricovero ho temuto per la mia vita, questo sì. È stata una prova difficile, grazie al cielo e ai medici del San Raffaele ho superato quella che considero la prova forse più pericolosa della mia vita, aveva detto il leader di Forza Italia uscendo dall'ospedale, una volta negativizzato. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.